Ex Tecra tenta di darsi fuoco sfiorata la tragedia nella notte. Gli ex lavoratori della Tecra nelle scorse ore hanno ripreso il loro sit-in davanti ai palazzi di città. La tensione è sempre più alta. Ieri è stata una lunga notte per loro in attesa di avere risposte che fino a ora non sono arrivate. Chiedono di poter rientrare nel cantiere di Tecra anche se la confusione attuale sull'appalto non li aiuta. Un operaio in protesta è stato colto da malore dopo essersi versato addosso della benzina. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari e è stato trasferito per accertamenti in ospedale. Alleanza perde colpi tra i nito stasi totale. La maggioranza del sindaco Lucio Greco dimostra di stare attraversando una fase di forte difficoltà. I sintomi politici principali arrivano da alleati molto vicini all'avvocato che non nascondono di nutrire forti perplessità su quanto fatto finora. Il presidente della Commissione Consiliare Sanità, Rosario Trainito, spiega che in un anno la politica non ha prodotto nulla. Villa e Orto Pasqualello nel degrado, nonostante gli interventi. L'intera zona di Bita e Giardino Comunale è sommersa dall'immondizia e dall'erbaccio, nonostante il lodevole intervento degli RMI che provano a tenere decorosa almeno la villa Garibaldi. Situazione peggiore, si trova scendendo le scale verso l'Orto Pasqualello. Lo scorso 4 giugno, con un post su Facebook, il sindaco annunciava in pompa magna gli interventi di ripulitura della zona. Oggi abbiamo provato a verificare. Rifiuti, indagine sulla gara d'appalto, si fanno più chiari i contorni della visita di ieri mattina in municipio con gli investigatori che hanno sentito dirigenti, tecnici, l'assessore Grazia Robilatte, il presidente SRR, Salvatore Chiantia. Sono stati acquisiti atti della gara ponte da un anno, ancora non assegnata dopo quattro differenti procedure. Ci sarebbe un'attività di indagine in corso. Movida, rischio contagio, vertice in prefettura, forze di polizia, sindaci, Caltanissette e Gela, associazioni datoriali sono stati convocati dal prefetto per gestire i rischi da contagio nella stagione estiva. Il prefetto di Sani chiede maggiori controlli ai sindaci delle due città con il rispetto degli orari di chiusura dei locali notturni, mentre le forze dell'ordine saranno aiutate dall'esercito in quella che è stata definita operazione strade sicure. Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziario parlandovi di una situazione che si fa sempre più drammatica. La tensione continua a salire tra gli ex operai della Tecra che ormai da quasi tre settimane stazionano davanti Palazzo di Città in un sit-in continuo. Ieri si è quasi sfiorata la tragedia perché uno di questi ex operai ha deciso di gettarsi addosso della benzina e ha provato a darsi fuoco. Fortunatamente l'intervento della Polizia Municipale che era lì presente e dei suoi compagni hanno scongiurato che potesse succedere il peggio, ma è chiaro che la vicenda si fa sempre più complicata, risposte non ne arrivano e questi ragazzi continuano ad essere lì in mezzo alla strada in attesa di risposte. Vediamo cosa è successo, stamattina siamo stati con loro. La tensione di questi giorni ha rischiato stanotte di trasformarsi in tragedia. Intorno alle 23, Bruno, uno degli ex operai Tecra che da tre settimane stazionano davanti Palazzo di Città per rivendicare il loro sacrosanto diritto al lavoro, si è allontanato dai suoi compagni, ha versato dalla benzina a terra sui suoi pantaloni e ha tentato di darsi fuoco. Fortunatamente la pattuglia dei vigili urbani che stazionava lì accanto si è accorta di quanto stesse accadendo e ha attirato l'attenzione dei compagni vicini che lo hanno trascinato via dalle fiamme, impedendo che succedesse il peggio. Questo è quello che rimane di quello che è successo ieri sera. Come vedete ci sono ancora i segni della bruciatura creata appunto dalla benzina incendiata e che poteva veramente sfociare in una tragedia se non fosse stato per l'intervento tempestivo e dei vigili urbani e anche dei colleghi che hanno preso Bruno e l'hanno tirato fuori da questo cerchio di fuoco. Subito dopo Bruno è crollato a terra per un malore provocato dall'ansia e dalla tensione. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi al lavoratore e lo ha trasportato al pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Fortunatamente Bruno sta bene e oggi è tornato ancora una volta al presidio insieme ai suoi compagni. Ecco cosa ci ha raccontato della brutta esperienza di ieri. È stato un gesto di furia. Ho preso la bottiglia, mi aveva dato fuoco perché non lo potevo più. Perché ormai sono arrivato completamente. I ragazzi hanno buttato dei frusti, le cose, le hanno tolto tutto e il successo è che è caduto per terra e non lo vincente più. Perché sei arrivato a questo? Perché da tre settimane che siamo qua ci prendono ancora in giro e non lo sappiamo perché è ancora una giusta questa situazione. Non lo so che cosa c'è nel comune, però loro dicono un pezzo che ci esisteva, un altro po' e dicono di sì. Qua non vediamo niente noi, però soltanto che siamo qua. Alla mattina e alla sera, già di 15 giorni che siamo qua. Ancora loro, alcuni confermi, non hanno dato niente. Non so perché. Adesso siamo sempre qua, andiamo a fare questa protesta, però loro, come vedo io, loro se ne sbattono. Capisci che però il gesto che hai fatto ieri poteva creare conseguenze gravissime per te e per la tua famiglia. Sì, perché per lavoro, per tante cose, tante situazioni della casa che ci sono, perché la disperazione ti fa fare tutto. È un momento di situazione, non sai quello che fai. Purtroppo la testa, che è buona, la persona si va fuori fase. Sconvolti anche i suoi compagni al presidio che da settimane ormai vivono giorni di ansia senza avere risposte da nessuno. Purtroppo stanotte abbiamo visto una cosa che non dovevamo vedere dal nostro collega, però, da premettere una cosa, ci porteranno oltre a quello che già ha fatto il nostro collega. Noi l'abbiamo salvata, abbiamo avuto il tempo di salvarlo. Non sappiamo se qualcuno possibilmente si allontana ancora di più, si vieta la benzinata addosso e si dà fuoco. Perché ormai siamo arrivati già da tre settimane che siamo qua e ancora quasi sindaco, prefetto, assessore. Ma che dobbiamo vedere più? Gli ex lavoratori, i cui contratti non sono stati rinnovati, intanto proseguono la mobilitazione, anche se dalla prefettura ad oggi non sono giunti segnali favorevoli per il loro futuro. Chiedono di poter rientrare nel cantiere di Tecra, anche se la confusione attuale sull'appalto non li aiuta, oppure di essere reinseriti in un bacino di emergenza da cui anche altre ditte potrebbero attingere. Ma nei sindacati, nell'amministrazione comunale ad oggi, sono stati in grado di dare risposta agli operai e alle loro famiglie. Intanto i giorni passano e con essi cresce la tensione che tutti si augurano non possa sfociare in ulteriori gesti estremi. La pagina dedicata alla politica con la vicenda, la quasi telenovela tra il Partito Democratico e il sindaco Lucio Greco. Ieri doveva essere il giorno delle dimissioni dell'assessore Grazia Robiatta e poi la visita della DDA al settore ambiente ha bloccato tutto quanto. A quanto pare anche oggi dovrebbe esserci un incontro tra l'assessore e il sindaco. Addirittura potrebbe essere proprio in questi minuti questo incontro. Molto probabilmente l'assessore approfitterà di questo dialogo con il sindaco per presentare ufficialmente le proprie dimissioni. Il percorso sembra ormai segnato. Il Partito Democratico dovrebbe rinunciare all'assessorato all'ambiente con le conseguenti dimissioni dell'assessore Grazia Robilatte e dovrebbe di conseguenza uscire dalla maggioranza. Il segretario Peppe Di Cristina in questo modo chiuderebbe la sua esperienza all'interno della maggioranza arcobaleno che ha contribuito a fare leggere, a far arrivare a Palazzo di Città con il sindaco Lucio Greco e chiuderebbe così anche la sua esperienza da segretario cittadino del Partito Democratico perché nei prossimi giorni dovrebbe essere eletto segretario provinciale proprio dello stesso partito a Caltanissetta. Cambiamo argomento ma non tanto perché continuiamo a parlare di politica e continuiamo a parlare del malessere diffuso che c'è all'interno della maggioranza arcobaleno. Non è solo il PD a vacillare, sono tanti altri componenti di questa coalizione che stanno cominciando a vacillare. Ieri c'è stata l'esternazione del consigliere comunale Pierpaolo Grisanti che ha parlato di maggioranza politica che non esiste, è solo una maggioranza numerica, ha detto Pierpaolo Grisanti. Oggi arriva anche la critica forte da parte del consigliere Traenito, anche lui di maggioranza e proprio della lista che è quella del sindaco, un rappresentante di un'altra Gela. Traenito, che è anche presidente della Commissione Consigliare Sanità, spiega che in un anno la politica non ha prodotto nulla e in questo momento si sta attraversando un periodo di stasi totale. Vediamo. La stasi è totale e piuttosto amaro lo sfogo del presidente della Commissione Consigliare Sanità, Rosario Traenito, dopo le forti perplessità sull'azione amministrativa della Giunta Greco che sono arrivate dal consigliere comunale di Liberamente Pierpaolo Grisanti, eletto nella lista dell'avvocato. Anche tra le fila del gruppo del sindaco le sensazioni sono tutt'altro che favorevoli. Traenito spiega che probabilmente non parteciperà alle prossime riunioni di maggioranza fissate proprio dal sindaco. Ogni volta si tratta solo di parole, spiega il consigliere. Secondo Traenito dovrebbe essere il sindaco Lucio Greco a prendere invece una posizione più netta. Tutto dipende da lui, dice. Allo stesso tempo il consigliere di un'altra Gela ritiene che ci siano evidenti problemi nei risultati non conseguiti da diversi assessori della Giunta. Dopo un anno, secondo Traenito, i problemi principali arrivano da settori come ambiente e lavori pubblici. Evidente il riferimento ai due assessori e ai gruppi politici che li sostengono. Traenito chiede chiarezza proprio sulla posizione dell'assessore Dem Grazia Robilatte, al centro di una crisi politica avviata dal suo partito, ma allo stesso tempo spiega anche di non condividere la linea dell'assessore Ivan Liardi, che secondo Traenito non ha prodotto risultati attesi. Cita il definanziamento dei 33 milioni di euro del patto per il sud e un lungomare ancora chiuso. Traenito, come ha fatto anche nel recente passato, guarda a Greco e attende mosse politicamente coraggiose. Secondo la disamina del consigliere, la squadra di governo fino ad oggi non ha fatto fare una bella figura istituzionale e politica al primo cittadino. Ammette che la maggioranza, come già spiegato dal consigliere Grisanti, è soltanto numerica ma non politica. Il fronte dei progreco si conferma tutt'altro che in linea con quanto sostenuto invece dall'avvocato. Ci spostiamo a Niscemi per la cronaca, si cercherà di fare chiarezza sulla tragica fine del 38enne. Saverio Liardo, morto la notte scorsa lungo la Niscemi-Caltagirone nei pressi di Santo Pietro, incontrata a Portagallo. Il cadavere è stato ritrovato ieri mattina dai carabinieri di Niscemi di Caltagirone. Era in sella, la sua motocicletta sarebbe finita tra i campi della zona. Ieri non aveva fatto rientro a casa, i familiari hanno segnalato la scomparsa, le ricerche sono partite, arrivando proprio nella zona di campagna dove è stato ritrovato. Non ci sono certezze sulla dinamica di quanto è accaduto e non è da escludere che venga disposta l'autopsia sul cadavere di Liardo, che era molto conosciuto a Niscemi. Sul posto, oltre ai familiari, distrutti al dolore, è arrivato anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. E cambiamo ancora argomento. Villa e Orto Pasqualello nel degrado, nonostante gli interventi annunciati e parzialmente realizzati dall'amministrazione. L'intera zona di vita a Giardino Comunale è sommersa dall'immondizia e dall'erbacce, nonostante l'odevole intervento degli RMI che provano a tenere decoroso almeno l'interno della Villa Garibaldi. Situazione peggiore invece si trova scendendo le scale verso l'Orto Pasqualello. Proprio lo scorso 4 giugno, in un post su Facebook, il sindaco annunciava in pompa magna gli interventi di ripulitura della zona. Oggi abbiamo provato a verificare quello che abbiamo trovato. Lo vedete in questo servizio. Immondizia, lavori iniziati e mai terminati e RMI che fanno il lavoro che dovrebbe fare la Tecra oppure la Gelas. La situazione della Villa Comunale e dell'Orto Pasqualello è a dir poco drammatica. All'interno del Giardino Comunale convivono due facce. La prima è quella regalata dai pochi operai del reddito minimo di inserimento che dovrebbero star con scopa e paletta semplicemente a raccogliere qualche cartaccia da terra e che invece, con rastrelli e decespugliatori, si sono messi a potare e a ripulire le aiole della Villa per puro spirito di volontariato. L'erba è fatta tanto, tanto. Ma non aspetta a voi? Eh, che faccio? Se io mi vado qua, chi mi fanno qua? Ma io lo faccio orgoglioso. Ma vedete che c'è la cosa da fare? Niente, a scopa e paletta. E su RMI e picco 500 euro a mese. E te saluto, non direi che non è di più. Non è il lavoro vostro? Non è, lo stiamo facendo. Ma lo state facendo pagati o lo state facendo? Sì, sempre 500 euro a mese. Cioè non cambia nulla? O che fate solo scopa? O che vediamo, o che vediamo sempre qui. Tanto vale la pena che non facciamo dire parole distanziane, che non vogliono avere pace. Lo sfogo dell'Operaio dell'RMI è palese. I cumuli raccolti restano ancora lì e nessuno li viene a prendere. Qui se ne è andata da qui, da qua. Come su come le montelle, coscando, come stanno coscando. Tutto il fuoco è l'altro guardo dei bombieri. E non guardo chi se c'è un guardo. Chi se l'abbiamo a figliare a chi l'ha? No, a te, a chi l'ha. Qualcuno se l'abbiamo a figliare. Situazione peggiore si trova scendendo le scale verso l'Orto Pasqualello. Lo scorso 4 giugno, con un posto su Facebook, il sindaco annunciava in pompa magna gli interventi di ripulitura della zona. Oggi abbiamo provato a verificare. Questo è uno degli accessi che dalla villa porta all'Orto Pasqualello. Quell'area dell'Orto Pasqualello che l'amministrazione ha comunicato recentemente di aver ripulito. Andiamo a vedere come la situazione è già, come vedete, è abbastanza precaria. Rifiuti di ogni tipo e l'odore non ve lo racconto neanche, ma potete immaginarlo. E guardate, guardate proprio sul fianco della villa qual è la situazione, quanti rifiuti ci sono, la situazione delle serpaglie qual è. Lungo tutto il versante che costeggia il muro vicino alla villa comunale, i rifiuti la fanno da padrone, materassi, sanitaria e immondizia varia si confondono con la vegetazione. E qui siamo esattamente nel cuore dell'Orto Pasqualello, una delle zone che è stata ripulita, almeno parzialmente, da una delle ditte incaricate dal comune proprio per ripulire la città. Come vedete i rifiuti sono rimasti esattamente dove erano. Parzialmente l'erba è stata rimossa, ma gran parte della serpaglia è ancora qui. E questa continua ad essere un'area ad alto rischio incendio. La sensazione è che, come è accaduto per Manfred, il budget previsto per le ditte che avrebbero dovuto occuparsi della pulizia dell'area incolta sia risultato alla fine troppo esiguo per completare il lavoro e così gli interventi sono rimasti a metà, con i cumuli di erba estirpata appoggiati di lato in attesa di essere rimossi. Oggi intanto uno dei polmoni verdi cittadini, che avrebbe potuto rappresentare per Gela un punto di aggregazione artistico-culturale, rimane sepolto dall'immondizia e dalla vegetazione, trasformato in un rinatoio pubblico e in discarica. Ma c'è ancora chi crede che questo luogo possa ancora essere recuperato e restituito alla città, magari con interventi programmati e portati a termine e non a spot. Restiamo in argomento rifiuti, perché si fanno più chiari i contorni della visita di ieri mattina in municipio con gli investigatori che hanno sentito dirigenti, tecnici, assessori Graziaro Bilatti e il presidente dell'SRR, Salvatore Chiantia. Sono stati acquisiti gli atti della gara a ponte da un anno, ancora non assegnata, dopo quattro differenti procedure. Ci sarebbe tuttora un'attività di indagine in corso, i particolari in questo servizio di Rosario Cauchi. Sono quasi esclusivamente gli atti della gara da un anno, ancora non assegnata, di interessare gli investigatori. Ieri mattina gli agenti della Dianissena, arrivati a Palazzo di Città, hanno acquisito molta documentazione sentendo dirigenti, tecnici, l'assessore Graziaro Bilatti e il presidente della SRR4, Salvatore Chiantia, giunto appositamente in municipio dalla società che si occupa di regolamentare il servizio rifiuti, parlano di un'attività normale, si dicono sempre pronti a collaborare con magistrati e forze dell'ordine. Approfondimenti sarebbero in corso anche da parte dei magistrati della procura locale. Da oltre un anno si tenta di affidare la gara d'appalto dopo la suddivisione in allotti, solo quello di Gela è rimasto senza assegnazione per assenza di offerte. Le procedure fino ad ora sono sempre andate deserte, l'amministrazione comunale e i vertici della SRR hanno avuto incontri con il prefetto di Caltanissetta, informato su tutti gli iter, ed è stato chiesto un parere all'autorità nazionale anticorruzione prima di attivare l'ultima procedura negoziata andata comunque a vuoto. SRR e amministrazione comunale hanno deciso di ritentare con lo stesso sistema. Sarà la quinta procedura, mentre gli investigatori hanno avviato indagini, gli inviti a partecipare sono stati trasmessi a diverse aziende. Le offerte questa volta pare dovranno pervenire entro il prossimo 8 luglio. Da anni il servizio rifiuti in città è gestito in proroga dalla campanata ECRA, che non ha mai partecipato alle gare e poi andate deserte. Di recente nel corso di un incontro con il presidente Chiantia, l'assessore Robilatti e il sindaco Lucio Greco, il prefetto Cosima Distani ha chiesto di accelerare per arrivare alla gara pluriennale senza limitarsi alla sola procedura ponte da un anno, che per il lotto di Gela prevede un importo complessivo superiore a 6 milioni di euro. E voltiamo ancora pagina, questa volta parliamo di Movida, i tempi del coronavirus oppure immediatamente dopo l'emergenza coronavirus. Forze di polizia, sindaci Caltanissette e Gela, associazioni datoriali, sono stati convocati dal prefetto per gestire i rischi da contagio nella stagione estiva. Il prefetto Distani chiede maggiori controlli ai sindaci delle due città con il rispetto degli orari di chiusura dei locali notturni, mentre le forze dell'ordine saranno aiutate adesso dall'esercito in quella che è stata definita operazione strade sicure. Vediamo. Movida, locali notturni e spiagge, sono i luoghi in cui gli assembramenti sono scontati e che preoccupano il prefetto. Due giorni fa si è riunito proprio in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Cosima Distani, a cui sono intervenuti i sindaci dei comuni di Caltanissetta e di Gela, i responsabili provinciali delle forze di polizia, il comandante della locale sezione di polizia stradale, allargato alla partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti della provincia di Caltanissetta, per mettere a punto la strategia da adottare durante la stagione estiva nell'attuale fase di ripresa delle attività produttive e della vita sociale, anche alla luce delle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Nel corso dell'incontro è stata affrontata in modo particolare la tematica del rispetto del divieto di assembramento e dell'osservanza delle misure di stanziamento sociale, soprattutto presso gli esercizi pubblici e altri luoghi di ritrovo dei giovani, nonché in altri spazi di aggregazione di persone. La stagione estiva, il ritorno all'ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali, ha sottolineato il prefetto Distani, richiedono nell'attuale emergenza di carattere sanitaria l'imprescindibile necessità di proseguire scrupolosamente nell'adozione di comportamenti appropriati e responsabili. Dopo aver ribadito l'attualità del divieto di assembramento che in alcuni territori è stato disatteso, il prefetto ha evidenziato che risulta assolutamente necessario ricercare tutte le misure possibili per bilanciare l'emergenza di carattere sanitario con la tendenza alla socialità, tenendo ben presente che occorre dare assoluta prevalenza alla tutela della salute di tutti i cittadini, non sottovalutando l'importanza della ripresa delle attività economiche in generale. Il prefetto Distani, alla luce dei recenti episodi di affollamento e di disturbo della quiete pubblica che si sono già verificati nel capoluogo e a Gela ha chiesto di intensificare servizi di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nelle ore serali e notturne e nei fini di settimana per garantire il distanziamento tra le persone. I sindaci dei comuni di Caltanissette e Gela hanno assicurato controlli nei rispettivi comuni sul rispetto degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Alle iniziative e agli interventi pianificati dalle forze di pulizia territoriali forniranno il contributo coordinato operativamente dalla Questura i militari dell'esercito italiano dell'operazione Strade Sicure, la polizia stradale e le polizie municipali dei comuni interessati. La cronaca, i poliziotti e il commissariato Niscemi martedì scorso hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia nei confronti di un Niscemese di 33 anni condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il condannato, che deve scontare la pena di due anni e otto mesi di reclusione, era già affidato in prova ai servizi sociali. La misura alternativa alla detenzione è stata però revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissette. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti presso il carcere di Gela, dove sconterà la pena. Ancora la cronaca giudiziaria fu in Niscemese Giuseppe Cilio a uccidere nel dicembre di vent'anni fa l'allora 22enne Orazio Sotti. Il corpo del giovane venne trovato davanti al garage della propria abitazione a Fondo Iozza. I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa del Niscemese. Furono i familiari del giovane ucciso a chiedere che le indagini riprendessero dopo anni di fermo. Vediamo. È definitiva la condanna a 24 anni di reclusione imposta alla Niscemese Giuseppe Cilio accusato dell'allora 22enne Orazio Sotti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa sostenuta dall'avvocato Salvo Macri. Nelle circa 80 pagine il legale metteva in discussione le conclusioni dei precedenti gradi di giudizio con Cilio condannato all'ergastolo e poi in appello a 24 anni perché non fu riconosciuta la premeditazione secondo gli investigatori che si occuparono di ritornare su un caso rimasto fermo per anni. L'omicidio sarebbe stato deciso per vendicare la relazione che la vittima aveva avuto sia con l'allora fidanzata dell'imputato che con quella del fratello Salvatore Cilio che però difeso dall'avvocato Luigi Cinquerui venne assolto in primo grado e uscì definitivamente dal procedimento. Il corpo di Sotti fu trovato davanti al garage della propria abitazione nel dicembre di 20 anni fa. La difesa ha ribadito che anche le testimonianze rese in aula nel corso dell'intero procedimento non avrebbero diradato i tanti dubbi sulla dinamica e sull'effettiva presenza di Cilio nei pressi dell'abitazione di Sotti. Nel ricorso veniva citata l'assoluzione del fratello dell'imputato che avrebbe smentito la tesi d'accusa elementi che i magistrati romani non hanno accolto. A richiedere la conferma della condanna sono stati i legali di parte civile gli avvocati Giuseppe Cascino, Francesco Minardi e Maria Cascino nell'interesse dei familiari della giovane ammazzato 20 anni fa. Sono stati i genitori di Sotti a volere che le indagini proseguissero. I poliziotti del commissariato e quelli dell'aliquota di polizia giudiziaria coordinati dai PM della procura sono riusciti a dare un volto a chi agì quella sera del dicembre del 2000. Ora la decisione è definitiva. Sgradita sorpresa questa mattina per i bagnanti che si sono recati al mare nei pressi delle scalette Macchitella. Un tonno di grosse dimensioni come potete vedere alle immagini è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia. L'esemplare aveva sul corpo profonde ferite. Sono stati immediatamente allertati i militari della Guardia Costiera che hanno segnalato il caso all'ASP e al settore ambiente del comune chiamati a intervenire per rimuovere la carcassa il cui peso si aggira intorno ai 100 kg. E con questa notizia siamo arrivati al termine del nostro telegiornale. Siamo in chiusura. Naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoigella.it Se invece volete rivedere tutti i nostri servizi li ritrovate sulle nostre pagine social, Facebook e YouTube. Per il momento è tutto. Non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.